La seconda edizione del Grande Fratello VIP è ormai iniziata, i concorrenti sono stati presentati e stanno iniziando a farsi conoscere dal grande pubblico in modo più approfondito. Lo scorso lunedì, 18 settembre, è andata in onda la seconda puntata dalla quale sono emerse nuove indiscrezioni e nuovi la doccia, tra quelle hot e quelle inesistenti. Innanzitutto partiamo con il dire che la prima eliminata di questa seconda edizione è stata la modella Carla Cruz la quale, nonostante il flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen la ragazza, infatti, al termine della prova in vasca con Aida e Espica, si è lasciata andare ad una doccia completa detergendo le sue parti intime in diretta ma se da un lato ci sono persone come lei che non hanno nulla da temere e si fanno la doccia in pubblico, dall'altro c'è chi ha molta vergogna nel farlo. La persona in questione è Simone Izzo.Nel corso di un dibattito con i suoi coinquilini, la famosa attrice e regista si è aperta ed ha rivelato per quale motivo in tutti questi giorni non ha mai fatto una doccia, e continuerà a non farla. Simone Izzo rivela per quale motivo non fa doccia al grande fratello VIP. Tutti gli altri concorrenti si erano domandati per quale motivo la donna non si facesse docce, ricordiamo che l'unica doccia disponibile è ripresa dalle telecamere, per questa ragione hanno avanzato la domanda alla diretta interessata nel corso si un conviviale dibattito.Simona, a quel punto, ha confessato che ad una certa età le donne debbano coprirsi, per tale ragione ha vergogna a fare la doccia in pubblico. L'attrice ci ha tenuto a ribadire che provvede quotidianamente alla sua igiene personale ma lo fa nel lavandino presente nel bagno, lontano dalle telecamere, pertanto provvede alla detersione a pezzi, con le sue spugnette e i suoi prodotti personali.L apostrofo i larità dei ragazzi i ragazzi, allora, hanno iniziato a scherzarci su ed hanno esortato la Izzo a fare una doccia, a costo di farle da scudo verso le telecamere per il loro corpo.La donna, un po' imbarazzata, ha declinato l'offerta ed ha ribadito che non ha affatto intenzione di docciarsi per tutto il tempo di permanenza nella casa del grande fratello Vip. Chissà come andrà a finire questa storia.